È giusto essere emozionato perché è la cosa che desideravo, che speravo e che si avverasse. Quindi quando il club mi ha confermato la fiducia sono troppo contento, sono molto felice. Molto felice perché desideravo continuare questo lavoro che è cominciato da poco e che secondo me ci potrà portare comunque a dei risultati importanti in futuro. La partita di stasera è difficile, è stato solo il partito meglio di noi. Noi siamo stati un po' impacciati all'inizio, però poi adesso siamo veramente una squadra che sa stringere i denti, che sa colpire, che è lucida, che sa leggere le situazioni. Quindi è chiaro che abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo dovuto fare dei cambi forzati, abbiamo perso i giocatori importanti e li perderemo anche la partita di venerdì, ma dobbiamo assolutamente insistere con lo stesso spirito, con la stessa determinazione, perché sarebbe sbagliato adesso pensare subito al futuro, ma dobbiamo pensare che il nostro futuro è adesso e le prossime tre partite sono ancora molto importanti. C'è tutto un ambiente, tutte le persone che lavorano, che hanno il Milan dentro e che pensano solamente a far sì che il Milan possa splendere come è stato in passato. Quella è la cosa che mi dà. Io quando dentro al Milanello sto bene, sono felice e sono felici tutti. È così che secondo me si costruiscono poi delle prospettive importanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.